Se state riscontrando problemi riguardo all'out of memory che manca così la video memoria esaurita, in questo caso andiamo un attimo nella libreria di Epic Games, 3 puntini, poi vai su gestisci, vai direttamente su gestisci e sotto c'è scritto opzioni di lancio sulla riga dei comandi che puoi trovare anche su Steam sulla rotella, su proprietà e su file generali, proprio una riga di comando, vai a scrivere D3D11 oppure direttamente un trattino D3D11 per avviarlo come DirectX, modalità di rendering DirectX11. E quindi come ho detto puoi farlo anche su Steam sulla riga dei comandi. Ora tasto destro su Start, poi direttamente su gestione dispositivi, ragionare così la nostra scheda grafica attraverso gestione dispositivi grazie anche ai metodi di Windows, andiamo direttamente a scegliere un elenco di driver disponibili, scegli così la scheda, vai avanti e la installi, se no puoi direttamente installare gli aggiornamenti per la tua scheda grafica attraverso il programma NVIDIA App. Quindi tu scarichi e installi NVIDIA App Beta, apri così NVIDIA App Beta, vai su Driver, cerca così degli aggiornamenti da fare perché proprio oggi hanno rilasciato degli aggiornamenti proprio per Black Meat Wukong. Anche per la mancanza della memoria video esaurita e dei suoi errori all'avvio. Ed eccolo qua. Quindi tu scarichi così l'aggiornamento, lo installi, una volta installato riavvia il tuo computer. Una volta fatto, fai installa, installerà e poi riavvia il computer. Per altri problemi ancora puoi commentare sotto il video. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!